Ruggeri, questi fondi andranno persi? Io non credo proprio, penso che gli esponenti di centrosinistra che in queste ore si stanno agitando e neanche poco, cioè parlo dell'ex presidente di Regione Ceriscioli e due sindaci di Fanno e di Pesaro, possano dormire sogni tranquilli, perché non penso proprio che sia la volontà di questa maggioranza a far perdere dei soldi che però, come avevo detto in campagna elettorale, non andavano destinati tutti su Pesaro, ma erano stati stanziati per tutta la Regione, perché i primi 105 milioni di euro che erano stati stanziati dal CIP dovevano servire per l'ammodernamento tecnologico, per l'antisismica di tutte le strutture esistenti della Regione e poi invece per quanto riguarda gli altri 16 milioni di euro dovevano essere utilizzati per l'emergenza Covid. Quindi in modo forzoso questi soldi sono stati destinati dal PD tutti per l'accensione del project financing per la parte pubblica. Quindi naturalmente adesso tutte le procedure sono sospese e quindi decade, dopo decenni, questo progetto di accentrare posti letto tutti in un'unica struttura. Io adesso non voglio gridare vittoria perché lo farò magari quando ci sarà veramente una delibera firmata dalla Giunta, ma per il momento sono abbastanza soddisfatta perché finalmente c'è qualcuno che parla il nostro stesso linguaggio e che può prendere le decisioni. E quindi nel giro di una seduta insomma sono state cancellate tante chiacchiere portate avanti per decenni. Quindi lei in questo ha appoggiato la maggioranza? Naturalmente abbiamo appoggiato la maggioranza votando la loro risoluzione, presto ne presenteremo una nostra firma e naturalmente nel mio ruolo di opposizione vigilerò affinché questi soldi vengano veramente utilizzati per i motivi per cui erano stati destinati al nostro territorio.